Il punto C, consiglio 3 e 6 Le emozioni del Napoli durante la settimana si riacchiudono in un dibattito che a mio avviso è noioso e del poco Se il Napoli è costruito per lo scudetto o meno, se la favorita o meno Con questo giochetto mediatico di chi vuole mettere pressioni per nascondere la propria dimensione E del Napoli, di Antonio Conte soprattutto, che le respinge Antonio Conte è venuto a Napoli per vincere, non per fare la qualificazione in Champions League Sgombriamo il campo dalle favolette Però sa benissimo che ci sono delle difficoltà Le difficoltà di ricostruire un percorso e un progetto dopo il decimo posto della scorsa stagione Le difficoltà di competere con le altre che qualcuno è anche più pronta Vedi l'Inter che ha cambiato pochissimo, è una struttura di gioco consolidata, è una squadra molto forte Poi la Juventus che ricostruisce come il Napoli, che ha i suoi problemi Milik si deve operare a soltanto Vlaovic davanti Bremer ieri si è infortunato, qualche problema anche per Nico Gonzalez Atalanta che ha già fuori Ian, Ruggeri e Scalvini Ieri ha perso Jim City e va verificato E' uscito anche Kossunu prima del triplice fischio dell'arbitro e va verificata la sua condizione Questa è l'altra faccia della medaglia Il vantaggio, l'unico vantaggio di non fare le coppe quando hai Antonio Conte in panchina Che ha già vissuto uno scenario del genere Al Chelsea, primo anno, senza coppe, decimo posto l'anno precedente Vittoria della Premier League Alla Juventus, senza le coppe, vittoria del campionato Al primo anno, per carità, con qualche situazione pre-Var, pre-tecnologia a dare una mano Non dimentichiamo il gol di Montari Però l'ha vinto, l'ha vinto con una squadra che non è neanche la più forte Quindi è un fattore, sicuramente Non mi convinceranno mai ad esaltarmi per tutto ciò Perché io preferisco mille volte le emozioni delle coppe europee A vederle altre che vanno in trasferte in Europa Si confrontano sul palcoscenico internazionale Si godono i ritmi delle partite europee che sono di un altro pianeta Rispetto a quelle italiane Anche quando non vincono Vedi il Milan che, come il Bologna ha perso l'Evercuser Ma ha fatto bella figura, meritava di più Visto anche un possibile, un potenziale Un probabile, sinceramente, di cuore su Love Schick Quindi non mi convinceranno mai Ma la realtà è questa Dopo una quindicina d'anni di coppe europee Si può anche accettare Un anno con la settimana tipo Giocando con gli sfottori ai tifosi di un tempo Con il mercoledì Che i tifosi del Napoli possono anche andare al cinema Perché non c'è la squadra del cuore Ma probabilmente, essendo appassionati di calcio Si godono le altre partite Una Super Champions che viene criticata Ma a mio avviso un passo avanti l'ha fatto È anche necessario Perché c'era il compromesso da fare Con i club più ricchi I club più potenti Dopo il fallimento della schifezza della Superlega Perché così va sempre etichettata E di garantire ulteriori introidi Di dare un po' più di imprevedibilità Sarà divertente fare le classifiche Fino all'ultimo secondo Con la differenza reti e i vari parametri Visto lo scenario che si prefigura E poi le sorprese stanno arrivando Ieri il Real Madrid ha perso sul campo del Lille Con calcio di rigore di Jonathan David Ve lo ricordate? Era uno dei potenziali postosimen Con Benfica che batte 4-0 l'Atletico Madrid Con l'Aston Villa che batte 1-0 il Bayern Monaco Quindi le sorprese sono anche cominciate ad arrivare Vedi anche due giorni fa L'Arsenal che batte il Paris Saint Germain Quindi è una Super Champions che affascina Che attira sinceramente Non facciamo gli ipocriti Considerando che il Napoli non c'è Però deve essere un anno di sacrificio L'anno prossimo l'obiettivo base E tornare a sentire la musichetta Della Champions League Però bando alle ciance Ciò che conta è che domani il Napoli torna in campo A fronte al Como al Maradona Un'altra volta nonostante le 18.30 Un orario che abbiamo osteggiato tutti i giorni Praticamente Ci saranno quasi 50.000 persone al Maradona Si va vicino al sold out E Conte dovrebbe andare Dovrebbe eseguire un vecchio mantra del calcio Quello che squadra che vince non si cambia Confermare in blocco l'undici Che ha battuto il Monza Con le alternative pronte a gare in corso Meres Ma anche un eventuale ricambio per Lukaku Lukaku che durante la sosta Rimane a Castelvolturno Ancora una volta Non va in nazionale a giocare le gare di National League Tra l'altro il Belgio nella prima partita a fronte all'Italia E la Francia poi in quella della partita successiva Quella del lunedì Rimane a Castelvolturno a lavorare Perché ha già raggiunto un livello di buona condizione Secondo quanto ha detto Conte ieri Ma può ancora crescere Conte vuole azionare quel giocatore di football americano Come lo definisce lui Sta lavorando molto bene da boa Meno nell'attacco alla profondità Perché gli manca la gamba, la brillantezza per farlo nei tempi giusti E questo può essere una risorsa importante Penso anche contro una squadra come il Como Che gli spazi te li lascia Fabregas ha parlato di una strategia Che hanno approntato Vedremo quale sarà Intanto il Como andrà in ritiro a Caserta Una scelta un po' più inedita rispetto alle altre squadre Però è una squadra che lascia un po' di campo E quindi magari nel giochino di attivare Lukaku Prima come Boa Cercare l'1-2 Poi la palla nello spazio in profondità Se Lukaku veramente è cresciuto sotto il profilo atletico E di brillantezza può essere una risorsa importante Napoli-Como Domani ore 18.30 Oggi e proprio nella giornata di domani Andremo a fondo nei temi della partita Con i vari duelli da affrontare Questo Sergi Roberto versione centrocampista Che va a completare la carriera con un ruolo diverso Che prevede un dispendio di energie limitato Rispetto ai tempi in cui Imperversava sulla fascia destra del Barcellona Tanti altri temi L'attenzione a Cutrone Che appena ha una possibilità Nei pressi dell'area di rigore Sa essere pericoloso Ne parleremo tutti i giorni Nel mio approfondimento quotidiano Il punto C di Ciletroise Sul canale YouTube di Radio Napoli Centrale A cui vi invito di iscrivervi e di abbonarvi Per favorire, per appoggiare, sostenere il lavoro che svolgiamo In maniera quotidiana E poi con le nostre dirette alle 13 alle 15 Sul Radio Napoli Centrale Potete seguirci ovunque L'app, YouTube, Facebook, Twitch In Dab, ascoltando la radio in Dab Per rimanere connessi nella vigilia di Napoli-Como Il punto C con Ciletroise